L'internazionalizzazione digitale oggi è la grande opportunità delle imprese italiane rispetto alla internazionalizzazione classica che prevede l'insediarsi con un sito industriale presso un altro territorio, oggi con l'internazionalizzazione digitale e le nuove tecnologie c'è la possibilità di insediarsi virtualmente sui territori ed eventualmente proporre i propri prodotti, i propri servizi ed eventualmente tirare fuori da questi territori delle opportunità di business, quindi delle concrete opportunità di business. Oggi le nuove tecnologie aiutano in questo e oggi siamo qui per spiegare come è possibile fare tutto ciò.